Oggi perché formalmente non è ancora un giocatore del Napoli, ha il contratto in scadenza con il Denipro al 31-12 e di fatto diventerà ufficialmente un giocatore del Napoli soltanto a partire dal 1 gennaio. Oggi giornata di visite mediche svolte qui tra il centro sportivo di Castelvoltura e la clinica Pineta Grande, poco distante dai campi dove si allena...